Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo nel punto identico dove ci siamo lasciati l'altra volta Siamo nel nostro cuniculo praticamente, perché eravamo inseguiti da un rinoceronte dell'inferno, che cazzarola E quindi siamo riusciti a trovare questo buco dove poterci rifugiare e cercare un attimino di fare mente locale Prima di partire col video signori io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate sempre al video Allora, ci sono due grossi problemi, uno dovremmo cercare di tornare vivi a casa perché comunque abbiamo un po' di cose Però abbiamo soprattutto l'armatura in ferro signori che non ho la minima intenzione di perdere qui nel nether Quindi, io il problema grosso che ho sentito anche un ghast, non vorrei, guarda ci manca solo che mi sparo un ghast e abbiamo fatto 31 Abbiamo vinto la tombola praticamente, allora signori stiamo calmi Noi l'importante è che non disturbiamo quel maiale di là, vedete quello? Perché non mi sono portato un arco con le frecce? Un arco con le frecce sarebbe stato la soluzione a tutti i nostri problemi, ma non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo Non ce l'ho riflettuto, mi sono ricordato i pezzetti stai zitto lì, ferma, non ti muove, ora me lo vedo sbucare da qua sopra Vi immaginate, riesco a prendere quel blocchetto? No, brutto Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure Allora, stiamo calmi, stiamo calmi Noi dobbiamo cercare anche di trovare la strada di casa e questo non è per niente facile Ok Non è per niente facile, la carne lì non ce la posso mettere, devo mettere un blocco di questo Ok, ora se io rompo questo, lui mi vede Ok, sicuramente mi vorrebbe attaccare, ma qui non ci arriva Ma noi per sé e per no lo chiudiamo, così siamo belli tranquilli e nessuno si fa male Questo, perfetto, idem con patate Ok, quindi richiudiamo questo blocco di qua e vediamo un attino, signore, di spostarci in questa zona di qua Che dovrebbe essere quantomeno un po' più tranquilla, non dovremmo rischiare Uuuuh, fermi tutti Non facciamo che mi dà una cornata volante praticamente e io mi ritrovo a terra Mi ritrovo che volo praticamente dall'altra parte del mondo Allora, stiamo calmi, spostiamoci in questa direzione e allontaniamoci dal maiale presuntuoso Allora, casa nostra, signore, dovrebbe essere casa nostra Il nostro portale, ok Io venivo da quella direzione, il problema è che qui ci sarà ancora il maialozzo che ci vorrà fare la festa Quindi evitiamo questa zona qua, facciamo il giro largo Noi così stiamo approfittando anche per prendere un po' di materiali Riuscissimo a chiuderlo il maialozzo da qualche parte Occhio sempre se scavando scavando non finiamo Eccolo là il maialozzo, perfetto Non lo possiamo chiudere lì perché è troppo largo lo spazio e non avremmo minimamente il tempo di muoverci Chiudiamo, chiudiamo con calma, con calma Se noi poi riuscissimo anche a salire un poco in modo tale che lui non riesce più a prenderci Non sarebbe brutta come idea, sapete? Proviamo a salire anche un pochetto Perché dall'alto le cose si vedono meglio Se lui non riesce a fare la nostra stessa strada Potremmo essere salvi Ora la cosa graziosa è che io scavo così verso l'alto e becco la lava, signori Questa sarebbe proprio l'apoteosi per finire questo video Ok E che ho detto? Ho visto incontro luce della lava e ho avuto paura Allora, di qua noi dovremmo uscire In teoria dovremmo avere un minimo di spazio Dovremmo vedere la luce di qui? No, siamo saliti troppo Perfetto, ok Proviamo ad andare di qua? Proviamo a riscendere? Perché signori, noi dobbiamo scendere Dobbiamo riuscire a trovare strada di casa Ok Ok Di qua si scende No, 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 di qua si scende troppo però Fermi tutti Queste discese così brusche senza che so dove è il maiale A me non piacciono sinceramente Qui c'è della glowstone che potremmo prendere Effettivamente un po' di glowstone ce la potremmo pure portare a casa Allora, stiamo calmi Facciamo un ponticiattolo Volante Prossimo che qualcuno Se qualcuno mi dovesse dire che non faccio esplorazioni Sto rischiando la vita praticamente Riesce a mettermi il blocco Aspettatemi Vediamo se riusciamo a essere tecnico-tattichi Tecnico-tattici No, la non riesce a mettermi il blocco Eh, va bene Facciamo così Allora, rompiamo questo Spostiamoci di qua Ok E qui possiamo recuperare un po' di glowstone signori Che ci può servire Ce la possiamo portare a casa Ci può servire Per illuminare Per illuminare Mannaggia Stiamo a cascare di sotto Allora, io posso anche cascare di sotto Ok Ma non so dove è il maiale Il problema è questo Il problema è dove è il maialozzo Sapessimo dove è il maialozzo Saremmo tutti più tranquilli Ma non so dove è il maialozzo Ragazzi, quanti li abbiamo presi? 22 pezzi Il maialozzo sta là Siamo ancora abbastanza vicini E questa cosa non mi piace per nulla Dovremmo riuscire a fare una sorta di barriera qua Perché lui appena mi vede Mi punterà sicuro signori Questa cosa non va assolutamente bene Allora, io c'ho una paura Dei maialozzi Che voi nemmeno ve ne immaginate Nemmeno la metà di quello che potete immaginare Quante volte sono morto per colpa di questi maiali bastardi Che dico io perché ce li hanno aggiunti E lo sanno solo loro Allora, così dovremmo essere al sicuro No? Cheat Ricordo un Enderman aver detto la stessa cosa Allora, così dovremmo essere al sicuro signori Dovrei averli chiuso la strada Non dovrebbe più riuscire a vedermi Ok, sì Sì, sì Siamo salvi Ora me ne spunta uno alle spalle Mi immaginate? Allora, continuiamo a prendere un po' di questa glowstone Non tutta Perché non mi piace distruggere proprio tutto Siamo a 36 pezzi Dammi ne altri due Siamo tutti contenti Dai, dammi questi uno Due E tre Perfetto Ok Recuperiamo il recuperabile Prendiamo quest'altro po' di quarzo Che fondamentalmente ci serve sempre e solo per fare esperienza In questo momento signori Perché non so che cosa poterci fare Col quarzo Potremmo fare delle costruzioni carine e coccolose Ma non ne ho intenzioni Allora, con calma Io ricordo che siamo scappati in maniera Decisa da questo lato Per metterci in salvo Dal Maialozzo È giusto? Sì Qui è tutto chiuso Quindi di qua non ci siamo Non ci siamo lanciati signori Siamo proprio saliti di qua Devo semplicemente riuscire a capire da dove che siamo saliti Allora, stiamo calmi Se sentite dei rumori di sottofondo non vi preoccupate signori È la lavatrice che sta lavorando Perché sapete, anch'io come ogni essere umano mi devo lavare le robe Quindi hashtag lavatrice in funzione Ok Ora Di là c'è una foresta Di qua c'è la glowstone Io forse sono salito di qua Può essere Sento un magma block E non mi piace per niente Io ho paura di andare in quella direzione Perché rischiamo di beccare un altro maiale Se becchiamo un altro maiale siamo morti signori Se ne becchiamo un altro siamo morti Tra l'altro il piccone di ferro ci sta abbandonando Ok Prendiamo un altro po' di legno Ma fondamentalmente a che ci serve Prendere un altro po' di legno Annulla Stiamo continuando l'esplorazione Trovo una fortezza così Per caso Per pura fortuna Per botta di culo Una fortezza Qua Così Niente da fare Tutto questo noi stiamo continuando a allontanarci Dalla nostra zona di sicurezza E io non so minimamente Dov'è il nostro portale Va bene signori Allora Non perdiamoci in chiacchiere L'obiettivo di questo video era Salvarci dal maialozzo E ci siamo riusciti Riuscire a metterci in sicurezza dal maialozzo E tornare a casa signori E tornare a casa Ci aspettano tanti progetti a casa Li dobbiamo portare tutti a termine E non possiamo morire qui come dei 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 No 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 Ho fatto tanto per ottenere tutto questo ferro E dobbiamo Salvaguardare la nostra bellissima armatura Senza 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 Troppi problemi Allora Che io ricordi Dobbiamo scendere di qua Che io ricordi Noi siamo saliti di qua Siamo saliti di qua Ma sicuro Sì Penso di sì Penso di sì Perché mannaggia a me Non metto le torce Qualcuno me lo dice Me l'ho partito bene a metterle le torce Perché non ho continuato a metterle Perché sono Lì c'è una torcia Attenzione 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 signori Non tocchiamo il pigman Perché se tocchiamo il pigman Siamo morti davvero Qui c'è una torcia Questo è un buon segno Là c'è una torcia Ok 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 Evitiamo i pigman Facciamo una scaletta verso l'alto Signori Se riuscissimo a tornare a casa Sono l'uomo più felice di questo mondo Abbiamo una semplice armatura di ferro Signori Non siamo completamente protetti Allora Dove stava la torcia? Qua c'è dell'oro Che non dobbiamo toccare Qui ci sta un'altra torcia Il portale Ok 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 Signori Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Qualcuno là sopra ci ama Qualcuno nel mondo di Minecraft Ci ama signori Ebbene sì Ebbene sì Qualcuno nel mondo di Minecraft Ci ama Non rompete le scatole Io me ne torno a casa Bello tranquillo Carino E coccoloso Via così signori Voglio prendere qualcosa No Non voglio prendere assolutamente niente Liberiamo un pochino sta zona Così viene meglio Ci possiamo muovere meglio E torniamoci a casa signori Mamma mia Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Siamo tornati vivi e vegeti a casa Mamma mia Mamma mia Ok Spostati Perfetto signori Ce l'abbiamo fatta Casetta nostra Ma quanto è bello Stare a casetta proprio Ma quanto è bello Allora Possiamo abbellire un po' questo mondo Questa zona di qua Ma sapete che lo potremmo Lo potremmo fare Approfittiamo di questa Di questa fortuna che abbiamo avuto Nel tornare a casa vivi E abbelliamo un po' Abbelliamo un po' con questa zona del portale Rendiamola proprio Portalosa No Tu non dovevi metterti qui Penso che il piccone di ferro Ce lo perdiamo No Abbiamo gli ultimi Gli ultimi tocchi del portone di ferro Quindi Dai così Dai così Rendiamolo Eh no Però devi farlo tutto Tutto ciccioso No Non lo facciamo tutto ciccioso Signori Poi sennò diventa enorme Quindi leva questo E leva questo Ok Li abbiamo persi Sì Ci interessa No L'importante era tornare a casa Vivi e veggiti L'importante era questo Signori Così Qua ce li mettiamo tutti e tre Uno Due E tre So che forse ci stava meglio Se li andavamo a cuocere Facevamo I I blocchi Quelli Più cazzuti Ma non fa niente Va bene così Va bene così Ok Uff Mamma mia Dammi la glowstone Fammi quattro Non si chiama Luminì Vabbè Luminite Io la chiamo glowstone Perché c'ho Vecchi ricordi Della Sembra se si chiama glowstone Questa che manco si chiama glowstone Sto sbagliando tutto Luminite Luminite La facciamo bella così Pulita E ne mettiamo uno qua Uno qua Così Andiamo proprio a far Bella A illuminare tutto Così non ci sono problemi E possiamo levare Eventuali torce Se abbiamo messo delle torce A giro Perfetto Questo Penso sia gli ultimi colpi Del piccone No Ancora resiste Qua abbiamo messo la torce Sì Quindi questa si può levare Perché siamo belli illuminati Signori Che dire Ce l'abbiamo fatta Non l'avrei mai detto Ma ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a tornare a casa Recuperiamo Il grano Andiamo a mangiare Le nostre mucche Che Prossimamente Saranno Contribuiranno Anche loro All'espansione della casa Signori Dando vita Alla Alla zona degli incantesimi Che anche quella Dovremo un attimino fare Il prossimo video Signori Iniziamo la costruzione Del magazzino O il magazzino O dove portare le pecore Perché Dobbiamo anche portare le pecore Oppure potremmo andare Di nuovo in esplorazione Non lo so Non lo so Al momento sono Sono contento di essere tornato a casa Senza Senza problemi Al momento sono contento di quello Poi Dai Dai Mangiate e riproducetevi Mangiate e riproducetevi Ok Dobbbero esserci due 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 Nikonaco Che vanno camminando Perfetto E qui le mucche vanno crescendo pure Signori Che dirvi Che dirvi Che dirvi Facciamo un'altra Un'altra copertina Qui dal portale Questo video È un po' più corto Rispetto a quelli Gli altri giorni Ma va bene così Signori Va bene così Detto questo Cazzo Mi sono dimenticato Un blocco là Aspetta Fermi tutti Fermi tutti Che cosa brutta Che cosa bruttissima Mi sono dimenticato un blocco qua Mettimi un blocchetto qui Ok Ora va bene Ora va bene Ora possiamo fare la chiusura Ora possiamo fare la chiusura Potremmo anche fare No Non facciamo più niente Signori Va bene così Detto questo Signori Io vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi giudizi E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao